Secondo giorno del secondo gruppo. La carta che ho estratto per voi è la carta che dice consapevolezza e conoscenza e gli angeli ci segnalano che dobbiamo prepararci per un nuovo percorso. Questo è un fatto perché da più parti ci viene segnalato che dovremo cambiare, che le cose non saranno più come prima e quindi gli angeli ci incoraggiano dicendoci che è arrivato il momento di aumentare la nostra consapevolezza. Può trattarsi di qualcosa che vogliamo cambiare nella nostra vita oppure qualcosa che vorremmo conoscere meglio. Quindi avete davanti a voi approfittando in questo periodo un sacco di opportunità che non vanno sprecate. Se questo video vi è piaciuto vi ricordo di mettere un like, di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto e anche nel caso non aveste ancora scaricato il virtual box vi consiglio di scaricarlo andando a vedere il video gratis per voi. Vi mando un grande abbraccio di luce e ci sentiamo domani con la terza carta, Love Surabi.